Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per l'estate 2024. Abbiamo la carta del sole, amici dello Scorpione, periodo dedicato agli amici, allo stare insieme, anche a parenti mi viene da dire, potrebbero essere fratelli, potrebbero essere dei cugini, è come se fosse una cerchia di amici vicino a voi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta, io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure venere. Per capire come unire a questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il primo semestre del 2024 e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere l'aria di quest'estate che con questo sole promette bene. Quindi vi dicevo amici, conoscenze, feste, si frequentano i parenti. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento a dei figli, perché il sole parla anche di bambini, di figli. Andiamo a vedere le energie. Allora abbiamo un 2 di coppia, un 5 di pentacoli, un re di spade, un 5 di coppe, un 2 di pentacoli e gli amanti. Che interessante perché si inizia con un 2 di coppe si finisce con gli amanti, ragazzi. Allora, adesso andremo a vedere carta per carta e poi in un secondo momento farò gli esempi per i single, per le relazioni, per il lavoro, per l'economia e via dicendo. Dunque, il 2 di coppe mi dice che qualche tipo di relazione, piuttosto che di accordo, ma potrebbe anche essere visto come un accordo con voi stessi, potrebbe essere proprio una relazione tra fratelli, tra amici, anche considerato il sole. Andiamo a vederlo, questo 2 di coppe, però come la sensazione che potrebbe cambiare. Allora abbiamo questa regina di coppe e 2 di bastoni. Allora qui ci potrebbe essere un ruolo, un accordo o direttamente una persona sulla quale siete un po' indecisi, considerato anche questo 2 di bastoni che da un lato dice ok ho questa situazione, però ne vorrei un'altra. Andiamo a vedere 5 di pentacoli, abbiamo un cavaliere di coppe e la torre. Guardate ragazzi, sento che potrebbe arrivare con questo 5 di pentacoli. Un momento di perdita può essere, siccome un 5 di pentacoli per qualcuno rappresenta qualche tipo di perdita economica, ma qui la sento più come una sorta o di perdita di tempo o perdita di potere personale. Però prendete l'esempio, la variante insomma che vi vibra di più. È come se ci fosse un'offerta da parte di qualcuno per ricominciare da capo, mi viene da dire, per destrutturare magari la relazione di cui si stava parlando prima e ricominciare da capo perché dopo la torre c'è sempre la rinascita. Ok? Andiamo a vedere il re di spade, cavaliere di pentacoli e 4 di spade. Allora io sento che qui qualsiasi sia l'obiettivo, perché qui comunque abbiamo un 2 di bastoni, qui devo dire che c'è una parte che è legata a quello che già avete e una parte che appunto, come vi dicevo prima, guarda il futuro. Probabilmente qui si tratta di destrutturare qualche tipo di credenza, qualche tipo di questione egoica, normalmente collegata con la torre, quindi è una convinzione mentale. e qui però vedo che si va verso una maggior struttura, una guarigione, se consideriamo l'otto di spade, ma avendo anche il re di spade, vi dico, per qualcuno rappresenta un avvocato? come se ci fosse una sorta di processo, magari anche di rottura di coppia, abbiamo 2 di coppe e la torre, però sento che è una proposta di rottura, cioè come ve lo spiego, non è un qualche cosa che vi arriva così, è un qualche cosa che vi propongono, quindi è un tipo, ok, se non stiamo più bene insieme, valutiamo l'idea di separarci, non è un, boh, basta, mi sono stufata di te, ti lascio, cioè è come se fosse una cosa che si valuta insieme, c'è un qualche tipo di ricostruzione, destrutturazione e poi potenziale ricostruzione che si sta valutando insieme a qualcuno, e qui comunque abbiamo un 4 di spade, è vero che c'è anche un cavaliere di pentacoli, quindi le cose sono un po' lente, però sento che si va verso la chiarezza mentale. Andiamo a vedere questo 5 di coppe? La luna, e il matto. Allora, ho l'idea che vi vogliano consigliare di prendere esempio dal passato, per superare questa situazione. Adesso poi vediamo come inserire il sole, ma con questo re di spade, che mi parla proprio di chiarezza mentale, rivedo anche il sole, perché uno dei significati della carta del sole è proprio quella del portare chiarezza. Abbiamo anche un matto, io sento che qualcuno ha bisogno di fidarsi e affidarsi, potrebbe essere alla luna, potrebbe essere alle stelle, tipo mi affido al destino, potrebbe essere affidarsi ai sogni, in questo periodo ragazzi, per molti di voi saranno importanti i sogni, potete tenere un quaderno vicino al comodino e appena vi svegliate li scrivete, perché ho come la sensazione che attraverso i sogni a qualcuno arriverà un qualche tipo di presa di consapevolezza, come se vedeste una realtà che prima non vedevate. Andiamo a vedere due di pentacoli. Uh là là, eremita e diavolo! Qui sento come se ci fosse da scegliere, proprio letteralmente, vedete che qua c'è un due di pentacoli, come se ci fosse un ciclo che si ripete, e qui da una parte del pentacolo abbiamo l'eremita, dall'altra parte del pentacolo abbiamo il diavolo. È un po' come se doveste scegliere, tra lo stare da soli, o rimanere condizionati, rimanere in una schiavitù, rimanere vincolati. Secondo me è una questione di equilibrio, perché il due di pentacoli molte volte parla anche una sorta di alto e basso, tra magari i momenti che avete bisogno di prendervi per voi, e i momenti in cui vi sentite condizionati. Però abbiamo la carta degli amanti, alla fine. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta, perché di solito la carta degli amanti è una carta di armonia e di amore. Non sempre è amore verso qualcun altro, molte volte può anche essere amore verso se stessi. Sette di pentacoli, tre di spade, regina di bastoni. Risposto un po' perché se no non si vedono. Ok. Meglio. Allora, con questo tre di spade sento un po' che vibra con questi due, cinque. Quindi con il cinque di coppia e il cinque di pentacoli. c'è come una sorta di attesa per una scelta. Qui sento che c'è l'indecisione, qui sento che potrebbe arrivare una scelta. Si passa da un arcano minore a un arcano maggiore, quindi potenzialmente la scelta è diciamo in meglio, in positivo, e verso qualche cosa di più concreto. Sinceramente non sento che sia tanto riferito a una situazione di relazione di coppia, anche se potrebbe essere, ma è più qualche cosa che riguarda proprio voi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi vibra. Allora ragazzi, partiamo dai single. Qui qualcuno potrebbe, diciamo, la sensazione che stiate effettivamente frequentando qualcuno, una cosa un po' così, diciamo in superficie, e che questa persona non vi convinca tanto. Sia che ce l'abbiate, sia che non ce l'abbiate, sento che qua si tratta di cambiare il modo in cui voi vi ponete al mondo. Ho la sensazione che qualcuno abbia proprio bisogno di un centro estetico, di fare una sorta di restyling, i capelli, magari non lo so, farsi fare un po' di coccole, insomma, per aumentare l'amor proprio, come l'idea che si debba lavorare su quello che ancora di bello c'è, e soprattutto se siete donne valorizzare il vostro lato femminile e se siete uomini mi verrebbe da dire valorizzare il vostro lato empatico. Devo dire che potrebbe arrivare una persona, ma ho come la sensazione che facciate un po' fatica a calibrare con questo due di pentacoli il tempo tra quello che è il vostro bisogno di stare da soli, di valutare, se vogliamo, anche quello che è stato il passato e il bisogno invece magari di stare in compagnia. Ho com'è l'idea con questo? Datemi una carta per il diavolo. Vi vincola in un certo modo. Dieci di spade. Sento che ancora qualcuno deve finire un processo di guarigione. infatti qui vediamo il 3D spade che ancora vibra. È una carta che mi parla di una ferita che è ancora aperta. Potrebbe essere con questo 7 di pentacoli una ferita di infanzia. qui vediamo anche. Guardate il re di spade, ragazzi. Allora, potrebbe rappresentare un avvocato, effettivamente. ma potrebbe anche rappresentare uno psicologo. E siccome qui abbiamo un 4 di spade può essere che vi appoggerete durante quest'estate ad una persona magari non è uno psicologo magari è solo un amico qui arriva al sole con il quale o la quale vi trovate bene a parlare potrebbe essere potrebbe essere una persona con la quale vi fa piacere condividere del tempo e semplicemente vi rilassa stare con questa persona però come l'idea che potrebbe essere qualcuno che vi aiuti a uscire da questo momento di dubbio. Se siete in una relazione ragazzi, qua le cose procedono lente ma procedono non focalizzatevi troppo diciamo sui bassi o su quello che dovete fare o su quello che vi sentite di dover fare o che gli altri si aspettino voi cercate di ricavarvi il vostro tempo per rigenerarvi per fare anche le cose che vi piace fare perché anche quello è un modo di nutrire la nostra anima però è come se si andasse verso un nuovo inizio di coppia allora con i 5 di pentacoli devo dire che potrebbe esserci una delusione e una proposta come di ricominciare o di riassettare le regole della relazione non è detto che sia un partner anche se è un cavaliere di coppe come vi dicevo prima potrebbe essere un figlio un amico un parente andiamo con il lavoro allora se siete disoccupati ragazzi sento che potrebbe entrare qualcosa non è qualcosa di definitivo purtroppo è un lavoretto mi verrebbe da dire così potrebbe anche essere non proprio ufficiale però comunque sì qualche cosa inizia qualche cosa per voi disoccupati inizia a muoversi se siete dipendenti se siete dipendenti o come la sensazione che cambieranno le dinamiche di gruppo poi soprattutto se lavorate in un'azienda grossa dove ci sono tanti gruppetti tra i dipendenti quelle dinamiche lì scusate cambieranno un po' però tutto sommato devo dire che sento una ventata di aria fresca in questo senso ok se siete autonomi allora se siete autonomi ho una specie di consiglio da darvi per ampliare il vostro raggio d'azione iniziate come dei pionieri un qualche tipo di servizio piuttosto che di produzione di prodotto che nessun altro ha mai considerato potrebbe anche essere qualche cosa legata all'occultismo ai materassi mi dicono al mondo dei sogni potrebbe essere anche allo studio di materie esoteriche quindi qualche cosa diciamo di sperimentale potrebbe anche essere qualche cosa inerente la famiglia ipotesi perché quello è un dieci di coppe se parliamo invece di finanze ecco ragazzi qua fate attenzione soprattutto se avete investimenti o dovete fare investimenti o volete muovere soldi o insomma non la vedo proprio così proficua sinceramente vi sento un po' come se fosse un periodo dove fate un po' fatica sinceramente in quest'estate a star dietro alle spese a quelle cose lì non che vi manchino i soldi ma saranno saranno un po' contati o come questa sensazione guardate tutto sommato essendoci la carta del sole è un periodo dove si va verso la chiarezza verso anche l'amor proprio verso la gestione di un qualche tipo di situazione in modo direi con astuzia è come un ok va bene le cose sono queste per esempio qui vedo questa torre quindi ci potrebbe effettivamente essere la fine di una relazione con qualcuno o la fine di un tema all'interno della relazione che poi in realtà solidifica la relazione ok che interessante andiamo a vedere un oracolo fatemi sapere poi nei commenti come vi vibra qui e ora carta numero 32 è un po' come se vi ricordasse di vivere nel momento presente nel momento attuale godetevi quello che avete siete grati per quello che avete non pensate troppo al passato non pensate neanche troppo al futuro perché stare troppo nel passato crea depressione per quello che comunque non abbiamo avuto mentre stare troppo nel futuro crea ansia per questa sensazione di e se e se e se bene amici dello scorpione questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo comunque sapere nei commenti o con un like se volete sostenere il canale potete fare una donazione condividere il video o iscrivervi e se volete prenotare una sessione individuale di crescita personale con me potete scrivermi un'email o abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 a tutti i